C'è una sezione che copre praticamente il passaggio dal nido alla scuola dell'infanzia ed è un progetto pedagogico riconosciuto dal Ministero che è fondato su dei principi di base legati alla continuità educativa e ci consente di realizzare un percorso di accompagnamento dei bambini in modo tale che possano poi accedere agevolmente alla scuola dell'infanzia. È un progetto che noi stiamo implementando nelle scuole dell'infanzia e nei nidi del Comune di Napoli. Cominciamo qui, però poi sicuramente apriremo un'altra sezione primavera a Capodimonte e in altre municipalità. È stata inaugurata stamattina la nuova sezione primavera nella scuola dell'infanzia comunale Giacinto Gigante. Parte di un progetto più ampio che consentirà l'apertura di nuove sezioni primavera in tutte le scuole dell'infanzia e i nidi comunali che ne hanno la possibilità in riferimento alla capienza e alle richieste provenienti dal territorio. La prossima sezione primavera sarà aperta all'asilo nido Maria Cristina di Savoia, nel quinto circolo comunale a Capodimonte. Già abbiamo accolto 10 bambini con l'obiettivo ovviamente di potenziare per il prossimo anno scolastico perché siamo sicuri che lavorando sulla fascia 06 abbiamo la possibilità di creare delle condizioni cognitive, educative e di socialità che sono importanti per la crescita e per lo sviluppo dei bambini. Grazie a tutti.